Loro entrano alle 21 e un quarto. Quante persone erano? Quattro persone e che è successo? Quattro seduti in questo tavolo qua, ordinano, mangiano tranquillamente alle 22 e 52 esattamente. I primi due escono, fidanzato e fidanzata, non lo so, la prima coppia. Lei borsa sulla destra e sigaretta in vista, in modo che stesse facendo credere di andare a fumare. Se ne vanno tranquillamente, dopodiché un minuto o due minuti massimo arriva l'altra, stessa identica scena, borsa sulla destra, sigaretta in vista, se ne va, si vede dalle telecamere che loro se ne vanno proprio, appena escono girano a destra e infine per ultimo esce l'ultimo che era rimasto, stessa scena, passa di fronte alla cassa e se ne va. In cassa purtroppo c'era altra gente che stava pagando, sigaretta in bocca, tu pensi che stanno uscendo a fumare, e invece no, hanno avuto la brillante idea di andarsene senza pagare. Noi ci siamo accorti a fine serata, giustamente quando abbiamo chiuso la cassa, quel tavolo rimaneva aperto, capito? Non c'era nel preconto, nel conto stampato, quindi quel tavolo era aperto e ci siamo accorti che qualcuno se ne era andato senza pagare. Siamo andati a vedere le telecamere e la scena è lampante, cioè si vede benissimo. Cosa avete intenzione di fare? Che abbiamo intenzione di fare? Denuncia? No, che dobbiamo denunciare a fare? Per 63 euro, devo andare a perdere tempo per denunciarli. Hanno perso la faccia, penso che gli basti. Resta l'amarezza? Tanta, tanta, perché non è carino. C'è gente che lavora qua. Siamo tre ragazzi in cucina, siamo quattro ragazzi in sala, siamo qua dalla mattina e non è carino che poi arrivi e tu mangi e te ne vai senza pagare.